Vigevano, diceva che nessuno sarebbe arrivato, ma poi vigevano, non trovate tanti giochi che facevamo, no? Quello che però arriva adesso è la verità del successo, la gente poi pezzò di pane e vive felice e contenta nel miraggio del bene. Sì, soli da notte, da lupi nel bronz, ma questa volta ci siamo tutti, ma questa volta ci siamo tutti, e quindi forse, anche se è dura, bisogna fare l'applauso sì a chi compete, questo grande cuore sì. Oh yeah.